Allora mister, buonasera, da dove partire? Si percepisce l'emozione, la felicità, è stata una partita molto bella da fuori, divertente, combattuta. La gara a mio giudizio è stata interpretata bene, nel migliore dei modi, quali sono le sue sensazioni, le sensazioni della squadra, com'è l'umore all'interno dello spogliatoio e insomma ci racconti un po' come è andata il tutto. Una vittoria finalmente, finalmente una vittoria, raccogliamo da troppe domeniche, troppi sabbi e domeniche, belle prestazioni, tanti complimenti e zero punti. Oggi abbiamo anno, anno fatto una partita eccezionale, totalmente in classifica, ci sono tutti spacciati, è la vittoria del gruppo, dei ragazzi, l'hanno fatto loro, se lo meritano, hanno sofferto tanto fino ad oggi, fino a febbraio e questa è una giusta ricompersa per tutta la squadra, tutta la rosa completa di questa squadra. Forse meritiamo un po' di più di quello della classifica che abbiamo, forse. Chiedere se credevate nella vittoria chiaramente sarebbe banale, superfluo e scontato, però come avevate preparato la partita? Perché la sensazione era appunto di una squadra molto ben organizzata in campo ed è stato poi quello che si è visto effettivamente da fuori. Siamo una squadra organizzata, purtroppo l'abbiamo preparata molto bene, era questa, alla prima classifica, dovevamo ripartire in qualche modo, dovevamo sfruttare quelle poche occasioni che questa squadra, una bellissima squadra, ci dava. Per fortuna oggi siamo stati bravi, fortunati a concretizzare le poche occasioni che questa squadra ci ha lasciato. Di questo sono contento, le altre volte purtroppo non concretizzavamo la dovere, oggi raccogliamo i frutti contro la prima classifica, contro forse la squadra più forte di questa squadra. Io vi ho visto veramente ancora tanti complimenti ai ragazzi. Secondo me quello che c'è anche da sottolineare è la forza sia psicologica sia fisica all'interno del rettangolo verde, perché i ragazzi non si sono arresi anche quando sono andati in svantaggio. E appunto, come ha detto lei, era sempre la prima in classifica, quindi non scontato la reazione nell'andare poi a riprendersi il risultato. Assolutamente sì, assolutamente, non hanno abbandonato l'idea di giocare, di lottare, questo è veramente ancora complimenti a loro, perché ci hanno dovuto fino alla fine, hanno lottato, hanno difeso il risultato, ho detto, ripeto, è una bellissima squadra, veramente una delle migliori squadre di questo girone. E ancora complimenti a loro, perché è tutto merito loro di quello che abbiamo fatto, e ancora raccogliamo finalmente qualche frutto di questa stagione che non ci sta dando quei risultati sportivi, che forse vi dobbiamo. La ringrazio e in bocca al lupo. Grazie.